Salmone, panna, melograno, pane carassau, sale e olio. Salmo, 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 panna, melograno, pane carassau. Mettiamo il nostro salmone in forno a vapore due minuti. Mettiamo sotto la base una crema che abbiamo ricavato dalle foglie esterne della puntarella, bollite e frullate. Allora, la nostra insalata caldo fredda di salmone, puntarelle, melograno e caprino. Buon Natale!